Ciao, sono Linda Venturi, assegnista di ricerca in fisica presso l'Università degli Studi di Padova. Io risponderò a due vostre domande. La prima è come quando avete capito di voler studiare fisica. Beh, come voi ero al liceo, in particolare all'ultimo anno, e devo dire che fino all'ultimo anno sono stata accompagnata da un bravo professore che insegnava sia matematica che fisica. Perché fisica, quindi? Ok, la matematica per me è sempre stata la materia più semplice di comprensione, più nelle mie corde, diciamo, ma ero anche abbastanza interessata alle scienze in generale e fisica era proprio la materia con cui trovavo più dialogo con la matematica. Poi anche il professore complice di divagazioni o comunque approfondimenti in merito è stato in grado proprio di stimolare l'interesse verso la sua materia. Quindi all'Università mi sono decisa a iscrivermi a fisica. La seconda domanda che mi fate è se è stato un percorso universitario particolarmente complesso o più o meno accessibile. Beh, grazie proprio anche alla preparazione e all'interesse del liceo l'ho trovato inizialmente accessibile, però poi man mano che andava avanti negli studi ho riconosciuto la complessità diciamo della scelta. E devo dire che per questo la passione in matematica è stata un forte traino perché comunque sia la fisica che la matematica procedono di pari passo, vi accorgerete man mano che approfondirete gli studi che sono materie che vanno bene a braccetto. E su questo piano a sostenere diciamo il carico di studi ha fatto da grande appoggio proprio anche l'ambiente universitario e la compagnia che ho incontrato. Grazie.